In occasione del World No Tabacco Day, giornata mondiale senza tabacco, si è tenuta presso l'aula magna del presidio ospedaliero di Pescara la conferenza stampa di presentazione dello screening del tumore polmonare in forti fumatori ad alto rischio. Il tumore polmonare è annoverato tra i big killer delle neoplasie. In Europa circa 700.000 persone all'anno si ammalano di tumore polmonare. In Italia questo dato è pari a 43.000 persone all'anno. La mortalità complessiva è molto elevata e la sopravvivenza a 5 anni viene stimata intorno al 15-20%. Il fumo di tabacco è strettamente correlato all'insorgenza di tumore polmonare. Al momento della diagnosi 7 pazienti su 10 presentano una malattia già in stadio avanzato e pertanto non suscettibile di trattamento chirurgico che a tutt'oggi risulta lo strumento terapeutico essenziale per la guarigione. Questo progetto vuole in qualche modo cercare di implementare i programmi di screening sul tumore polmonare perché è importante far arrivare il messaggio che purtroppo oggi la diagnosi di tumore polmonare al momento diciamo del riscontro è una diagnosi quasi sempre tardiva. Solo 7 persone su 10 si presentano con una malattia già in stadio avanzato e soltanto 3 di queste sono suscettibili di trattamento chirurgico. Quindi il nostro impegno, l'impegno di tutti deve essere quello di promuovere le campagne di screening e promuovere la prevenzione primaria attraverso appunto l'arruolamento dei soggetti fumatori in questo progetto di screening. L'abitudine tabagica è aumentata soprattutto nelle nuove generazioni probabilmente anche legati a tutti gli eventi che abbiamo diciamo trascorso negli ultimi anni e anche attraverso l'utilizzo delle sigarette elettroniche che ahimè diciamo sono degli strumenti che avviano poi al fumo di tabacco vero. Quindi ribadisco il concetto deve partire la prevenzione primaria già a partire dalle scuole con l'abolizione dal fumo di sigarette in primis ma poi la cosa importante è cercare di identificare nella popolazione a rischio cioè nella popolazione che va tra i 55 e i 75 anni di età forti fumatori quei pazienti che possono essere potenzialmente affetti da tumori polmonari.